Bella ragazzi, ecco un test di profondità estremo che mi avete chiesto chiedendomi a parer mio qual è il metal detector più attente che sia in commercio che lo trovate al sito metaldetector24.com Desert Gold regolato con sensibilità quasi al massimo discriminazione a un terzo trovate tanti test nel terreno comparati con altri metal detector tutti insieme nello stesso terreno vi consiglio di provare anche questa bobina col Desert Gold la 15x18 shaft in un contesto simulato io faccio questa simulazione tanti video nel terreno li avete già visti io faccio questa simulazione per dimostrare anche nel terreno super ferroso super conduttore super mineralizzato perché c'è una colonna di cemento armato vibrato pietre e traferro per un totale di 55 centimetri che vi farò vedere e allora guardiamo il test con questa moneta da 50 centesimi la passa bene cerco di star fermo perché senti anche la telecamera proviamo con questo piccolo anellino e lo spiffera poi uno può dire a metterlo in all metal suona tutto perché è più potente senti anche l'anellino oltre che la moneta provate anche voi col pinpointer tastate la colonna di cemento armato fate le prove e qui siccome che abbiamo messo la discriminazione a un terzo proviamo col pezzo di ferro che un pezzo di ferro così grande discrimina perfettamente riprovo con la moneta l'ho buttata adesso senti la telecamera vedete perché la muovo molto preciso lo posso spegnere accendo il pinpointer subacqueo ip68 da 40 euro che trovate sempre nel sito metaldetector24.com e tasto per far vedere vedete tutto cemento armato suona il pinpointer qui non suona perché è finita la colonna colonna di cemento armato colonna di cemento armato colonna di cemento armato qua non suona perché non c'è più la colonna di cemento armato e ora guardiamo la metratura metto in fila perfetta sulla bobina vedete zero pietre tra ferro per arrivare a 55 centimetri di spessore questo metaldetector desert col 3 che lo trovate a 500 euro solo per gli iscritti al canale metaldetector24 che state vedendo 500 euro prezzo speciale al metaldetector24.com se lo volete se volete dare uno scambio alla la vostra ricerca e trovare di più ordinatelo che io ve lo spedisco ciao